Come da tradizione e in questo periodo si è svolta a Roccella Ionica la 55esima mostra micologica e botanica organizzata dall'Associazione Micologica Bresaola, il gruppo micologico Calabro Nicola Capitò. L'occasione è stata ghiotta anche quella per festeggiare il 50esimo anniversario della fondazione dell'Associazione Micologica Bresaola. La mostra si è tenuta presso il dopolavoro ferroviario in via marina a Roccella Ionica ed è durata un intero giorno. Siamo stati con le nostre telecamere ed abbiamo ascoltato gli organizzatori. Oggi è la mostra micologica che come ogni anno, sempre nello stesso periodo, facciamo. Però è un'edizione speciale perché ricorre il 50esimo anniversario dell'escrizione del gruppo micologico alla MB e poi anche la 55esima edizione della mostra micologica. Come potete vedere quest'anno non è stata una mostra con tantissime specie perché vuoi il cambiamento climatico in atto. Non ci sono state moltissime piogge, però noi siamo comunque riusciti a trovare delle specie per poter dare anche il nostro contributo per la conoscenza dei funghi anche quest'anno. Come potete notare le specie sono tante, diversificate e speriamo che la partecipazione della popolazione sia ben consistente.